buongiorno a tutti eccoci a un nuovo appuntamento delle interviste di edil tecnico io sono mauro ferrarini editor della casa editrice maggiore editore e ho con me oggi il piacere di avere come ospite l'architetto paolo de martin che è un nostro autore storico della casa editrice con il quale parleremo di un argomento estremamente interessante grazie paolo intanto per essere qui con noi oggi grazie buongiorno a voi ecco l'architetto de martin ha scritto per i tipi maggiori già un manuale sulla riqualificazione energetica del costruito ma oggi l'occasione c'è propizia per presentare un'altra opera del dell'architetto su un tema estremamente importante di estrema attualità che tutti i professionisti tecnici troveranno interessante stiamo parlando delle costruzioni in legno e perché ne parliamo oggi con con paolo perché ovviamente il attualmente è disponibile in tutte le librerie e negli store online l'ultima fatica editoriale di paolo de martini il manuale delle costruzioni in legno che qui vedete un mostrato un manuale che ha l'ambizione di diventare un po il punto di di riferimento per i progettisti sul sulle regole di come si costruisce di come si progetta e si costruisce in legno quindi progettazione materiali i nodi principali i dettagli avanzati e gli esempi progettuali prendendo lo spunto da questa pubblicazione quindi andiamo con paolo a parlare un po del tema del legno e vorrei subito coinvolgerti da questo punto di vista su un argomento che fino a qualche tempo fa era un argomento diciamo di discussione ma mai troppo approfondito il tema della sostenibilità ambientale e che oggi invece è entrato di forza per fortuna aggiungo io nel discorso anche tecnico e progettuale per quello che riguarda il settore delle costruzioni e ovviamente il materiale legno da questo punto di vista è stato forse uno dei primi principale materiale a cui si è associato il l'idea di un materiale sostenibile per l'edilizia volevo sapere da te un avere da te qualche riflessione in merito se il legno è veramente sostenibile e quali sono le sue caratteristiche che lo rendono così amico dell'ambiente diciamo diciamo così ma guarda quando io sento parlare di sostenibilità specialmente negli ultimi due tre anni mi viene un po l'orticaria perché è un tema che tutti hanno hanno scoperto stanno scoprendo adesso quando in realtà è un tema che è vecchio di secoli se non di millenni soprattutto per quanto riguarda il panorama delle costruzioni in legno quindi è una parola abusata stra abusata anche dai vari media nelle costruzioni in legno la parola sostenibilità va di pari passo con il materiale proprio il legno è un materiale sostenibile in sé al di là di qualsiasi altro tipo di principio cioè noi pensiamo alle costruzioni di secoli fa anche anche di migliaia di anni fa io penso alle prime costruzioni alle prime palafitte erano già costruzioni molto efficienti molto sostenibili però ovviamente questo va tradotto in termini anche scientifici di fisica tecnica quindi fondamentalmente il legno è un materiale sostenibile per tre fattori fondamentali innanzitutto è un materiale che accumula anidride carbonica cioè un accumulatore di co2 quindi l'albero nel bosco accumula co2 e questo bagaglio importante di co2 che sono tonnellate in un edificio in una piccola casa sono tonnellate di co2 ce lo portiamo dietro per tutto il ciclo di vita dell'edificio quindi è un beneficio che facciamo all'ambiente quindi di fatto è una riduzione della co2 per quanto riguarda l'effetto serra e quindi sappiamo benissimo che poi oggi con il sistema di certificazione fsc che significa gestione forestale sostenibile tutti gli alberi che vengono tagliati nel bosco devono essere chiaramente ripiantati quindi c'è una crescita continua e sostenibile quindi la crescita deve essere maggiore del taglio quindi si tratta di un ciclo che si chiude perfettamente in un livello di sostenibilità ambientale perfetto ideale ecco voi pensate che con una tonnellata di co2 corrisponde a un albero un albero corrisponde esattamente a un risparmio di un volo new york milano andata ritorno corrisponde a 15.000 chilometri in media di una cilindrata di media cilindrata in un anno a gasolio o a benzina a diesel o benzina quindi pensate a quanto è quanto è l'effetto l'importanza dell'accumulo di co2 di un dio di questo materiale quindi questo è il primo aspetto quindi al di là delle prima ancora di parlare di efficienza del materiale è un materiale che già in sé essendo a un accumulatore di co2 è naturalmente sostenibile rispetto ad altri materiali ecco pensate che poi dopo c'è l'energia grigia che riguarda il ciclo di vita quindi l'energia grigia di un edificio in legno di circa 35 40 metri cubi quindi una casa di due piani è di circa 150 kilowattora metro cubo a metto qua ma era metro cubo rispetto ai 2800 kilowattora metro cubo del cemento armato quindi capite la differenza o e 900 chilogrammi al metro cubo di un edificio d'attrocemento considerate tutti i materiali non soltanto il legno perché l'edificio in legno abbiamo anche altri materiali chiaramente no abbiamo i donaci abbiamo i fibro eccetera quindi diversi tipologie di materiali non soltanto line quindi è un edificio che in sé ha un un'energia grigia molto più bassa nettamente più bassa di tutti gli altri materiali e non abbiamo ancora parlato di efficiente energetica il legno materiale efficiente perché ha una conducibilità termica molto bassa un valore lambda e che vanno a 0 10 a 0 13 a seconda della tipologia di legno e la tipologia costruttiva quindi signora che conduce poco calore io senza parlare di isolanti le case della sul mare in norvegia sono già molto efficienti non essendo neanche isolate quindi sono case che trasmettono poco calore essendo costruite il legno massiccio se poi noi isoliamo gli edifici in legno quindi che vengono chiaramente ulteriormente isolati a seconda del sistema costruttivo che sia telaio o che sia xlam e questa efficienza aumenta ancora di più di fatto un edificio in legno già in sé senza nessuna certificazione energetica è già un edificio classe b ancor prima di poter lavorare sugli isolanti quindi un edificio che ha già un consumo annuo inferiore a 50 kilowattori metro quadro quindi di fatto un edificio già efficiente in sé grazie proprio a questi valori di fisica tecnica che sono valori naturali del materiale legno rispetto al cemento armato rispetto all'atterizzo anche l'acciaio quindi di fatto abbiamo un'efficienza energetica è una sottibilità del materiale che sono connaturati nel materiale tra l'altro molti parlano della criticità della fase estiva del legno anche la fase estiva del legno è virtuosa in quanto il legno ha un valore di calore specifico già al chilo k molto elevato siamo intorno ai 1800 1900 già al chilo k quindi tanto per dire pensate che la fibra di legno che è un isolante molto adatto per i tetti è l'isolante migliore per quanto riguarda la fase estiva perché accumula calore lo trattiene quindi migliora nettamente le condizioni di sfasamento dell'edificio e di smorzamento dell'onda di calore il legno lo fa questo naturalmente proprio a questa capacità di accumulare il calore e di trasmetterlo lentamente verso l'interno quindi la fase invernale nella fase estiva si rovescia ovviamente rispetto ad altri materiali non ha la massa e quindi questo lo penalizza leggermente ma che è ampiamente compensata da questo dal calore specifico che lo porta ad avere una capacità termica importante almeno equivalente se non superiore ad altri materiali in stratigrafia e poi chiaramente una costruzione in legno così come altre costruzioni in legno vanno progettate in maniera corretta quindi con i necessari ombreggiamenti geometrici ed altro quindi questi sono i principali elementi chiamiamoli sostenibilità a 360 gradi di un materiale un altro elemento che spesso mi ha trascurato che mi viene in mente adesso che è fondamentale l'igroscopicità del materiale il legno è un materiale igroscopico che cosa significa materiale igroscopico significa che ha una capacità di interazione con l'ambiente esterno all'interno cioè riesce ad assorbire umidità e ad assorbirla esattamente quello che fa l'albero in piedi nel bosco che arriva addirittura in certi più dell'anno ad avere un contenuto di umidità al 100% praticamente quasi completamente h2o acqua che poi chiaramente nel corso dell'anno si riduce arriva al 60 70 al 40 al 30 lo stesso discorso fa l'edificio in legno che chiaramente viene portato attraverso l'essiccazione il materiale che può essere naturale o meccanica ad un valore per le pareti esterne intorno al 22 per cento che è l'equilibrio si definisce umidità di equilibrio proprio l'umidità tale che permette al legno di avere un comportamento statico elattico di non di una vera fessurazione di non deformarsi e di comunque continuare ad assorbire ed assorbire l'igroscopicità tra l'altro ha un fattore molto importante che è il fattore di raffrescamento estivo indiretto nel senso che diventa praticamente un materiale regolatore di umidità pensiamo un po all'argilla praticamente lo stesso processo quindi come diceva l'architetto come dice l'architetto che non era un fisico tecnico come l'architetto che il legno praticamente è un materiale intelligente che d'inverno ha sempre due tre gradi in più ci fornisce due gradi in più di temperatura ed estate due gradi in meno perché regolare l'umidità in fase estiva è molto più importante che abbassare la temperatura l'umidità in fase estiva è decisiva per il benessere termico e legno questo lo fa naturalmente quindi diciamo che quindi il discorso sostenibilità nel materiale in legno è un discorso come vedete molto complesso che va chiaramente dai principi del materiale fino poi alla costruzione stessa questi sono poi poi fra l'altro inoltre inoltre per chiudere il cerchio lo chiudiamo proprio in tutti i sensi è il ciclo di vita e live ciclo del legno ciclo di vita totalmente virtuoso e parte dall'albero arriva alla casa e ritorna chiaramente in forma di accumulo di co2 quindi difficilmente si butta via parte del legno che viene utilizzato nelle costruzioni perché comunque è una filiera molto intelligente e complessa che chiaramente non si utilizza il materiale soltanto per le costruzioni ma si utilizza anche come materiale di scarto come materiale per produrre pannelli pannelli isolanti pannelli di temporamento pannelli osb pannelli moltistrato quindi di fatto è una filiera che utilizza tutti i materiali anche di scarto e comunque chiude il suo cerchio anche poi chiaramente con la biomassa che diventa materiale combustibile sostenibile non di origine fossile quindi una casa in legno praticamente in sé bandisce completamente quello che sono il problema del nostro pianeta attualmente che sono i combustibili fossili questo significa parlare di sostenibilità e questo è estremamente chiaro ti ringrazio paolo per per queste per queste informazioni come hai detto la filiera del legno è una filiera intelligente e virtuosa ma fatto salvo quindi il discorso sostenibilità che ci hai così bene espresso un altro tema diciamo così sotto i riflettori è il discorso invece della della sicurezza quando io parlo di sicurezza nelle costruzioni intendo soprattutto la sicurezza strutturale la sicurezza ovviamente al all'incendio al fuoco e ci aggiungo a mo di provocazione un altro tema che non riguarda la sicurezza ma un modo di pensare che oggi sta cambiando ma è ancora abbastanza radicato in molte persone ossia che il legno va bene in montagna ma che non non va bene in città o nelle costruzioni tradizionali allora sul tema sicurezza e sul tema ghettizzazione del legno solo in montagna cosa ci puoi dire ma allora la sicurezza chiaramente un tema molto complesso però basta semplicemente andare a vedere i valori di fisica tecnica statica dei materiali per capire la differenza che c'è fra il legno e gli altri materiali allora il cemento armato è un materiale molto pesante quindi sappiamo benissimo quel cemento armato in zone sismiche se non viene chiaramente progettato in maniera coerente con la situazione sismica geografica e quindi con interventi molto complessi diventa un materiale problematico il legno il vantaggio del legno è la sua leggerezza ma non è sufficiente la leggerezza cioè pesa meno degli altri materiali il legno da bete pesa tra i 500 e 600 kg al metro cubo quindi pesa praticamente pochissimo 3 4 volte meno del cemento armato due volte meno dell'acciaio quindi già questo già costruire con materiale leggero significa riuscire ad avere un beneficio in zona sismica però non è tanto la leggerezza la sua forza perché poi bisogna costruire degli edifici non dei cartelli di carta ma è il rapporto resistenza peso cioè un edificio in legno è leggero ma anche resistente cioè il coefficiente resistenza peso del legno che è intorno a 0 20 mi pare è nettamente inferiore rispetto al migliore scusatemi rispetto al coefficiente resistenza peso di un edificio in cemento o l'acciaio questo significa significa avere un beneficio fondamentale perché in in caso di terremoti la differenza la fa esattamente l'elettricità del materiale e il rapporto resistenza peso più un materiale leggero e resistente migliore comportamento in caso di terremoto quindi è la capacità di dissipare l'energia attraverso questa sinergia fra leggerezza del materiale e resistenza del materiale che il legno naturalmente ha non a caso le costruzioni in legno anche storiche pensiamo alle pagode giapponesi ma anche le chiese ortodosse costruite nell'ottocento sono lì da secoli hanno resistito senza parlare delle costruzioni attuali contemporanei dicevo hanno resistito a sismi terrificanti quindi l'edificio in pietra sono crollati sistematicamente quindi è un materiale che dal punto di vista statico è nettamente favorevole rispetto agli altri materiali ma anche storicamente abbiamo queste prove per quanto riguarda la sicurezza antincendio mi chiedevi il legno chiaramente non è classificato con materiale infiammabile tra virgolette ma è perché ovviamente la normativa lo considera infiammabile dal punto di vista della fisica della fisica tecchia ma in realtà non è così perché il legno è un materiale che brucia molto lentamente proprio grazie alla sua caratteristica di avere una conducibilità termica bassa quindi conduce poco calore quindi il processo di carbonizzazione del legno è molto lento più lento rispetto a tutti gli altri ma tutti gli altri materiali inoltre il momento nel momento in cui il legno carbonizza rallenta ancor di più questo suo processo quindi di fatto materiale che brucia molto lentamente e di fatto diventa più sicuro in caso di incendio rispetto all'acciaio che ad esempio collassa subito e anche rispetto al cemento armato quindi di fatto è parlare di rischio antincendio soltanto perché costruiamo il legno e si tratta di un puro pregiudizio tra l'altro con le costruzioni in legno moderne contemporanee dove si utilizzano materiali molto importanti anche per quanto riguarda la protezione antincendio penso ai fibro gessi l'area resistenza al fuoco aumenta anche di tre quattro volte rispetto al materiale originale quindi di fatto citato un pregiudizio che si può sfatare tranquillamente senza problemi poi l'altra cosa che mi chiedevi era la sul sul discorso del del legno confinato in in alta montagna in realtà il le costruzioni legno si stanno diffondendo anche in in tutti gli ambiti del nostro territorio tu hai qualche indicazione in merito allora questo questo si tratta di un altro pregiudizio ma perché soprattutto diciamo italiano tra virgolette perché in italia cultura del legno ha fatto fatica sta prendendo piedi da diversi anni però c'è questo questa idea della casetta di montagna il legno mentre il legno non è un materiale adatto per le città o per le grandi costruzioni ma realtà è tutt'altro ma non è da adesso perché noi andiamo a vedere esattamente le grandi costruzioni del legno del nord europa penso a norvegia che hanno per le città costruite il legno già nell'ottocento penso al giappone penso alle grandi costruzioni russe e anche norvegesi religiose di 89 piani già nel settecento novecento quindi dimensioni importanti quindi non casette di legno montane in zone in zone anche di pianura quindi zone anche molto problematiche dal punto di vista climatico di fatto si tratta di un altro pregiudizio perché la cultura del del legno è stata sempre portata avanti in tutte le zone climatiche non soltanto a livello montano io cito semplicemente i quartieri il quartiere il quartiere della zona della zona fiera di milano che adesso dell'architetto rossi che è stato costruito qualche sette otto anni fa un intero quartiere era il quartiere di di via cenni adesso mi torna il nome è un citato di un intero quartiere riqualificato e costruito con nove piani in legno in islam si tratta di palazzi residenziali con uffici al piano terra abbiamo asili nido servizia di quartiere quindi un quartiere interamente realizzato in legno penso al dato per fare un esempio nostro italiano cioè penso alle costruzioni dell'europa in particolare in austria si costruisce il legno il legno ha una quota tra il 60 e 70 per cento rispetto al tradizionale specialmente nelle città vienna ha almeno una ventina di quartieri in legno costruiti negli ultimi trent'anni così come berlino così come zurico ma si tratta di ricostruzioni importanti multipiano di sette otto dieci piani non ultimo c'è questo progetto in fase di elaborazione del grande centro google a toronto che dovrebbe essere realizzato nei prossimi anni è un progetto del 2021 è iniziato 2021 lì si prevede un quartiere di grandissima dimensione di addirittura 15 20 piani circa mi pare interamente in legno quindi parlare di costruzioni in legno montane è veramente non avere una conoscenza culturale del materiale ma anche della storia attraettura perché non è da oggi che si costruisce il legno a livello urbano lo si fa da sempre fin dal dalle trentiche tradizioni culturali pensate che in giappone la parola legno albero e casa significa la stessa cosa quindi di fatto il legno è la casa è il legno e l'albero che si fa casa è un concetto di metamorfosi di trasformazione dell'albero che si fa casa quindi è nato nella cultura cioè legno e materiale più antico del mondo certo c'è poco da fare quindi è una realtà storica e questa anche un discorso di sostenibilità storica non ambientale che chiaramente va messo in conto quando parliamo di sostenibilità di un materiale perché abbiamo dalla nostra parte una storia millenaria di questo materiale che ne garantisce la durabilità ecco che è un tema importante rispetto ad altri materiali certo paolo sei stato chiarissimo e si e si nota il la tua passione il tuo entusiasmo per per questo materiale allora io tornerei un attimo sull'ultima tua fatica editoriale appunto il manuale delle costruzioni in legno di cui abbiamo ricordato alcuni alcuni aspetti all'inizio di questa nostra chiacchierata volevo chiederti avevo piacere di sentire da te quali sono a tuo avviso i punti principali diciamo i contenuti principali che leggendo il tuo libro un professionista un progettista riceve come bagaglio tecnico personale sostanzialmente quali sono i punti di forza di questo di questo manuale ma credo che i punti di forza sono innanzitutto si tratta di un manuale che è il risultato di oltre vent'anni di esperienza sul campo di progettazione ma anche vent'anni di formazione a livello nazionale soprattutto sulle costruzioni in legno per architetti ingegneri geometri quindi conosco i professionisti conosco le esigenze e mi sono reso conto che in questi vent'anni diciamo che il punto debole punto critico di molti colleghi era di non conoscere non soltanto il materiale ma che però dopo qualche lezione si impara ma di non conosce il processo di un progetto legno quindi io ho cercato di creare dalla prima parte fino all'ultima parte dove presento dei edifici realizzati di esempi concreti presento sempre esempi concreti durante tutto il libro ma l'ultima parte proprio degli esempi per i propri alcuni miei alcuni di altri colleghi bravi dove i al centro c'è il progetto legno e cerco di spiegare dall'inizio alla fine qual è l'iter di progettuale di un edificio in legno quindi dal fin dal primo schizzo noi dobbiamo pensare al legno legno non è un materiale qualunque qualsiasi quindi dobbiamo pensare a questo materiale fin dall'inizio del progetto cioè il primo schizzo il primo disegno primo dettaglio costruttivo deve essere già pensato in funzione di questo materiale poi il focus fondamentale è che il legno e il progetto di un edificio in legno è un progetto che si che si fa prefabbricando un edificio cioè è un progetto che nasce che nasce dal dal dall'architetto però nasce in un stabilimento cioè il progetto esecutivo e costruttivo finisce nel momento in cui il mio pannello parete mio pannello solaio esce dal stabilimento e viene montato poi in cantiere quindi rispetto ad altri materiali o più di altri materiali c'è il discorso del montaggio quindi un po come il cinema no si fa si lavora si pensa al montaggio di sequenze quindi il progetto è pensato per il montaggio quindi di fatto la direzione lavori inizia già prima quindi ci dà una certezza una sicurezza finale del lavoro che è una garanzia di qualità è una garanzia di razionalizzazione dei costi e anche di cantiere non si parla mai di sostenibilità del cantiere una casa in legno si costruisce in 30 giorni 40 giorni con pochissime macchine di cantiere quindi con una un'incidenza di sostenibilità sul cantiere molto più bassa 1 a 4 rispetto al cemento armato 1 a 5 rispetto all'attrocemento quindi molto elevata di cui non si fa mai menzione quindi di fatto questo manuale ha il percorso di un tecnico lo può leggere come se fosse un progetto cioè cosa devo fare per progettare il legno la prima parte significa convincere il comitente perché come dicevi tu prima il comitente è appassionato del legno perché chi ti chiede di controllo in legno c'è una c'è una certa c'è un certo feeling quanto materiale però chiaramente ha dei pregiudizi questi pregiudizi alcuni di quali abbiamo cercato di sfatare prima vanno chiaramente spiegati al comitente che sono veramente dei pregiudizi che basta che non hanno senso di es di esistere e quindi la prima parte è proprio parlare dei smontare i pregiudizi e trasformare in vantaggi quindi parlare dei vantaggi di una costruzione in legno che sono tanti come abbiamo visto dalla sostenibilità alla sicurezza antisismica antincendio all'efficienza energetica eccetera eccetera quindi il progettista spiega al comitente quali sono i vantaggi del legno dopodiché si entra nella parte tecnica si fa un discorso che riguarda la storia si fa una scelta del sistema costruttivi i sistemi costruttivi legno non sono soltanto due ma sono di qui non meravigliosi sono tanti sono 4 5 6 e che poi abbiamo i sistemi mistici per sistemi libri eccetera quindi conosce i temi costruttivi da poter scegliere in funzione della tipologia di costruzione che sia un edificio residenziale un edificio terziario edificio pubblico eccetera quindi e dopo di che chiaramente in questo manuale si entra nei nodi tecnici che chiaramente la parte più complessa offerta progettista quindi che sono fondamentalmente l'attacco a terra che va risolto in maniera esemplare gli antichi lo sappiamo risolverlo molto bene quindi impariamo degli antichi staccando l'edificio dal terreno qui nel manuale si raccontano e si parla di tutte le possibilità di risolvere questo tema che è il dettaglio principale l'edificio in legno risolto quello abbiamo risolto più del 50 per cento delle problematiche tecniche edificio in legno poi chiaramente il sistema di parete il solaio il tetto quindi tutta una serie di informazioni molto 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 tecniche e finalizzati proprio la progettazione io sono un progettista sono architetto quindi ho tutti i giorni progetto lavoro sui dettagli quindi in questa manuale porto tutta la mia esperienza di tutti gli anni che ho passato a costruire edifici il legno e non soltanto il legno ma prevalentemente il legno e quindi di fatto questo un po lite di questo progetto quindi in realtà è un'offerta proprio anche passionale come dicevi prima a te perché io legno che mi appassiona da sempre per come diceva alvaralto prima di andare in ufficio e tra una casa dobbiamo sempre passare attraverso un bosco e il bosco è fatto di alberi ovviamente e di albero è il nostro materiale chiaramente che poi come diceva come dice la traduzione giapponese è l'albero che si fa a casa si fa a casa grazie paolo è meraviglioso sentirti parlare così del del legno io non posso che confermare il fatto che si tratta di un manuale veramente completo invito tutti coloro che ci stanno ascoltando e che sono interessati ad approfondire questo tema a visitare il sito del dell'editore www.maggiolieditore.it ma si trova anche su amazon e sui principali store online oltre che nelle librerie fisiche in tutta italia andare a esplorare e a vedere i contenuti del manuale delle costruzioni in legno di paolo de martin mi piace anche ricordare un prossimo appuntamento inizierà a fine settembre il 28 di settembre paolo de martin sarà anche il protagonista il docente di un percorso completo di formazione online accreditata sulla costruzione progettazione e costruzione in legno trovate tutte le informazioni anche in questo caso sul nostro sito formazione.maggioli.it ma vedrete tutte queste indicazioni in descrizione non mi resta quindi che ringraziare paolo per il tempo che ci ha voluto dedicare e augurare a tutti una buona lettura del manuale delle costruzioni in legno alla prossima grazie a voi grazie a voi